Ciao creatura Io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosa è? A-S-M-R Sì, non sono truccata perché c'è troppo, 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 troppo caldo per truccarsi in questo mese E se ti piace la mia maglia che ho fatto io puoi seguirmi su Instagram Ho creato una nuova pagina si chiama Neon Sunset o Neon Sunset Dipende da come vuoi pronunciarlo Neon Sunset è ok Dove ho messo tutte le mie creazioni che puoi acquistare o puoi solo ammirare o mettere i like Comunque seguimi così Quindi ho deciso che i guadagni ricavati dalla vendita di quelle creazioni Erano impiegati per acquistare nuovo materiale, per creare di nuovo Per chi in ottobre mi piacerebbe sicuramente acquistare una box creativa Soffi & Toffi Però io lo sto aspettando con le cose di Halloween Quindi da lì per provare sicuramente uno o anche più video creativi, rilassanti Quindi più che altro quella pagina lì con le mie creazioni è stata creata per finanziare diciamo così La parte creativa dei video Quindi questi soldi lì verranno impiegati per comprare cose per creare video E anche perché sono ferma anche nel creare Proprio perché non voglio accumulare Accumulare troppe cose di resina in casa E quindi volevo un ultimo prima liberarmi Suona male però hai capito il concetto Di quelle cose per poi crearne di nuove E quindi chiusa parentesi Anche se non l'avevo aperto ma la chiudiamo Per dire che in questo video andremo ad interrogare nuovamente le rune Ho fatto un nuovo box domande sulle mie storie di Instagram Nonostante un piccolo bug iniziale Alcune domande sono arrivate Altre le ho fatte fare il giorno dopo E adesso siamo pronti per chiedere alle rune Tutto ciò che volete Sarà un matrimonio felice Quello di Sally Andiamo a chiederlo alle rune Solo che la mia domanda è questa Non ti intendi il giorno del matrimonio O il matrimonio in generale Allora io andrò a chiedere il giorno del matrimonio Ok? Il giorno del matrimonio sarà un giorno felice Ho pensato esattamente alla sposa e allo sposo Perché so chi sono Perché mi seguono molto su Instagram E quindi ho proprio le loro facce qui Allora intanto la risposta è sì Però andiamo a vedere la runa Questa è la runa dell'energia Della passione Della buona salute Della forza fisica Quindi direi che Probabilmente Sarà molto felice Molto divertente E molto Non lo so Se vi scatenerete in danze Sataniche No scass Mi faceva ridere Aggiungere questa parola Comunque Vi a dire che Sì è una cosa Sì sicuramente Sarà molto Festoso E gioioso Come giorno Da come lo vedo io Qui Sto avendo Un problema Di salute Riuscirò a guarire Ok Vediamo Riuscirò a guarire Riuscirò a guarire Riuscirò a guarire Riuscirò a guarire Allora Non mi piace La risposta Che è uscita Ok Non mi piace È uscito Che ci sono Degli ostacoli Quindi voglio Pescare ancora È uscito di nuovo Riuscirò a guarire Ok Vediamo che cosa Cosa devi fare Per Mi esce Creazioni Di idee Ok Ok Ma dici cosa Dobbiamo fare Dici cosa Dobbiamo fare Strano perché Mi sono usciti due Che hanno a che fare Con La nascita Di qualcuno Non lo so Cosa Qualcosa che ha a che fare Con la tua famiglia Con le nascite Amore in famiglia Forse hai bisogno Di Di qualcuno In famiglia Che Deve aiutarti Che può aiutarti Non so Questa nascita Cosa c'entri Onestamente Però mi dice Armonia in famiglia Qualcosa che ha a che fare Con la famiglia Comunque perché Bambini Non lo so Vedi tu se ha Qualche in esso Se no Perché ok Se la risposta è no Non conto Ma voglio Capirci qualcosa Allora Poi Anna chiede Questo brutto Periodo Tra me E il mio ragazzo Si risolverà Lasciandoci O Riusciremo A superare I problemi E a tornare Felici Anna Vediamo Cosa Dobbiamo fare Cosa dovete fare E pesco un'altra Me ne sono Capitate in mano due Proprio una Si è aggrappata Alla mano E quindi Devo Devo Tenirla Mi dice Rinnovamento Che potrebbe sembrare Come un Lasciarsi No Però C'è anche forza d'animo Quindi forza d'animo A me Fa pensare che C'è qualcosa Che dovete cambiare Senz'altro Perché Anche a logica Se qualcuno Ha un problema E dice Ok Però ci vuole Forza d'animo Per capire Qual è il problema E provare a risolverlo Ci vuole per andare avanti E cambiare qualcosa Della coppia Non il fidanzato Ma Qualcosa che non va Tutti e due però E cercare di Superare l'ostacolo Del problema Allora poi abbiamo Chiameremo Tommy Perché ho deciso io Devo iniziare la mia Prima Sostituzione Da medico Aspetta che devo Leggerla Devo aprirla Per leggerla Tutto Tutto Devo iniziare La mia prima Sostituzione Da medico Andrà bene Ci sono dei tagli Per chi tagli Allora la risposta è sì Mi dice Mi dice Mi dice Delle cose Molto belle Non si vede Fatiche premiate Quindi Direi di sì E cambiamenti positivi Gioia E incontri speciali Quindi direi proprio che Direi proprio che Che andrà bene Questa fatica Premiata Mi piace molto Come Risposta Anzi Perché è una soddisfazione Anche la gioia No? Il periodo brutto Che sto attraversando In amore Sta per finire O durerà ancora Per molto Oddio Vediamo se sta per finire E vediamo anche cosa fare In caso Se la risposta è no Allora è Alle 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 Sta per finire No La risposta è sì Ha superato appena i voti Insomma Sì la risposta è sì Quindi no Non c'è neanche Bisogno di fare altre letture Salute Fa un caldo Atrucci 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 Oh il nostro amico Ricchi Che è nella live Di Instagram Il negozio dove lavoro Chiuderà finalmente Oddio Come Chiuderà finalmente Vabbè E lavoro Il negozio dove lavora Ricchi Chiuderà finalmente La risposta è no È meglio Fermarsi Aspettare Tempi migliori Ostacoli E ritardi La risposta è no Mi dispiace Perché penso che Finalmente Non ce l'ho con Dio Ma ce l'ho con la vicina Che è strisci mobile Come finalmente Tu speravi che fosse un sì Ma mi dispiace La risposta è no Mi dispiace Ricchi Allora poi Due persone A cui sto Pensando Ritorneranno Ad amarsi E a stare insieme Grazie Questa 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 cosa Abbiamo beccato La runa Col periodo Favorevole Per l'amore Quindi Io la vedrei Come un sì Che un no Tu cosa ne pensi Cosa ne pensate voi Allora Riuscirò A riprendere Il farmaco Che mi serve Su speso Ora Per effetti Collaterali Lovelli 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 Vediamo se Riprendere Il farmaco Probabilmente In questo video Ci saranno Molti tagli Perché sono Tanti minuti E Voglio farvi Tutti In un video E poi ci sono I vicini Che si trisciano Non è Positiva Mi dice Di no Peschiamone un'altra Perché questa è una situazione Molta delicata Vediamo un po' Che cosa dobbiamo fare Mi dice Perseveranza Ok Mi dice Buona salute Forza fisica Quindi Ce la puoi fare Senza Vediamo Non c'è tipo Un sostituto Questo farmaco Che domanda stupida Se ci fosse L'avrebbe preso Giusto Ok Peschiamone un'altra Protezione E fortuna Mi dà molta positività Questa nuova pesca Che ho fatto Perché mi dice Appunto La runa bianca Mi dice di no E mi dice Fermarsi per riflettere E poi ripescando Mi dà Forza fisica E salute Buona salute A me Mi sembra Quello che mi sento io Che ce la puoi fare Senza Però Non sono un medico E non so di cosa Stiamo parlando Quindi non voglio dire Una cosa Che già Capisci Questa domanda È molto Molto Precisa Nicola Mi ama ancora Suoni strani fuori Tornerà da me Se sì Quando succederà Grazie Allora Vediamo quando Più che altro Più che un quando Io chiederei come Dovrei fare Per farlo Però Mi attengo Al testo Ok Nicola Mi ama ancora Nicola Lo amo La O lo Amo ancora Perché lo so È positiva E mi dice Situazioni che da negativa Diventa positiva Yeah Quindi Ottimo Da negativa A positiva Vuol dire che Tornerà Probabilmente Però Quando Io più che quando Io posso Chiedere In che modo Tu devi fare Perché lui Che cosa deve Succedere Cosa deve Fa scattare Il ritorno Perché quando È quando Succederà Questa cosa Tornerà Ok Quella Ha più Senso Perché Le rune Non danno Delle date Quindi come Faccio A rispondere A quella domanda Quindi Me la gioco Meglio Cosa deve Succedere Perché lui Torna Questa è la mia Domanda Lui o lei Perché ripeto Non so I pronomi Che ho Quando Succederà Durante Una Terra Sportiva Questa Come dice La runa Poi Non so Ma Ha risposto Proprio Precisa Non Ti hanno Date Non Dicono Quando Certo Vagate Credici Si deve Fidare Dei suoi Colleghi Vediamo Paschiamone Un altro C'è qualche Vampiro Energetico Tra i tuoi Colleghi Questo è Quello Che Mi Dice Mi Ho pescato Un altro Brutta Cosa Propri Brutta Questa Brutta 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 Allora Ci sono Dei vampiri Energetici Non so Se sai Cosa Vuol dire È un modo Di dire Sono quelle Persone Negative Che ti Quando sei Con loro Ti senti Sempre stanco Perché è come Se ti Succhiassero Le energie No Io li chiamo Così Dopo non so Voi come Li chiamate E Delle persone In vita Insomma No Non sono Molto positive Le persone Di tuoi colleghi Di tuoi colleghi Ti spiace Io non li conosco Dico solo Quello che Dicono Le rune Poi Cioè Puoi credere Oppure Puoi verificare Di persone Però Io Le rune Dicono no Proprio brutte 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 Francesca Andrà bene Il corso All'Accademia A Roma Vediamo Dice Buone opportunità E successi Quindi direi di sì Samuele L'università Che ho scelto È quella giusta Per me Sì Riuscirò A laurearmi Nel 2022 Sì Perseveranza Perseveranza Ricordatelo Ok Quelle subito Chiare Le dico Boom boom Così Non mi ferma Nessuno Ho scelto La facoltà Che fa per me Elisa Però voglio Mischiarle bene Ok Ok Sì E mi dice anche Incontri importanti Questa cosa Mi È molto È molto Crecante Nica Ho già Fatto Una lettura Privata Perché Tra colleghe Artist ASMR Si può Poi Sarà un bel periodo Gaia Vediamo Se ci sono dettagli È perché Le sto mischiando Con energia Sì Situazioni Che da negative Diventano positive Quindi Sarà Un bel periodo Ho un'altra collega Oasi Bianca Andrò a vivere A Milano Entro Il 2021 Hai già chiesto Sto domando Allora Sorprese piacevoli Regali Sogni Rivelatori Vabbè Io direi Che Sorprese piacevoli Aspetta te Direi che Un sino Troverò Troverò Presto Un lavoro Che mi renda Rende Felice Vale Troverà Un lavoro Che la renderà Felice Vediamo Mi si è incastrato Al dito Questo Ok 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 Sì La risposta È sì Vittorie Quindi direi sì Ok Gregory Ci saranno Notizie Per il suo cuore Vediamolo insieme Mi dice Ostacoli Clisi Non ci spiace Proviamo un'altra runa Le voglio sempre Raccirare il sistema Allora Vediamo che cosa Dobbiamo fare Però Per migliorare La cosa Sì Esatto Cosa dobbiamo fare Per superare Questo ostacolo Vediamo C'è un ostacolo Che cos'è Cosa dobbiamo fare Allora Vediamo L'ostacolo Ci sia che è un ostacolo Grazie Abbiamo capito Anche noi Però Ha a che fare Con Inviti E egoismi Da parte Di persone Scorrette Vediamo Di più Voglio capirci bene O no Non fareste anche voi così Io voglio fare Delle belle letture Non dire solo No Sì No Allora Scusatemi Campanico Se sono in vari Ci sarà stato un taglio Allora Stavo dicendo Non può essere Una coincidenza Che con tutte le rune Ho pescato Quella Per avere Fortuna Soprattutto in amore Voglio dire Cioè Segnatela E Mettetela in tasca Cioè voglio dire Disegnatela da qualche parte Mettela Tenetela vicino Perché Ti serve A questo punto Direi che ti serve Riuscirò a passare Il test Per l'università E aspettate che Non riesco a leggerlo tutto A settembre Oddio Che domanda Oddio Importantissimo Daniele riuscirà A superare Questo test Dell'università Esatto Ok Ok Dice Riuscita felice Di un progetto impegnativo Quindi Trentissimo Riuscirò ad andare Via di caso Per quest'anno Tutti che vogliono andarsene Adoro Se riuscirò ad andarsene Di casa Vinto quest'anno Sì Già Ce l'ho sicuro Quest'anno Avrò buoni risultati A scuola Ali Vediamo se Quest'anno Quest'anno Sì Vediamo Anche che cosa ci dice Mi dice Dice fatiche premiate I cambiamenti positivi Quindi sì Bello Sono contenta Io vi chiedo scusa Per i mega tagli Ma c'è stato un casino Poi ho fatto rumore Anche con le rune Cioè Vi chiedo scusa Spero che comunque Il video Risulti Piacevole E rilassante Spero di aver aiutato Qualcuno Comunque Riguardatevi L'intro Dell'altro video E lì ci sono Le premesse Spero che questo video Ti abbia fatto rilassare E ti abbia anche aiutato Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura Grazie